Due servizi che sono attivi sul Comune di Campi già dall'inizio di luglio, quindi da qualche giorno e che riguardano la raccolta degli abiti usati e i rifiuti urbani pericolosi e i piccoli RAI, cioè i piccoli rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Qual è la novità? Che eliminiamo sostanzialmente il sistema di raccolta con contenitori, in particolare per quanto riguarda gli abiti, quindi non troverete più nel Comune di Campi i tradizionali cassonetti, quelli ad alzata verticale, ma si potrà utilizzare l'app di Alia, Alia App, e richiedere sostanzialmente un ritiro domestico gratuito a casa, quindi si potranno consegnare per quanto riguarda gli abiti fino a 5 sacchi semitrasparenti e poi invece per gli altri una consegna a mano. È tutto molto semplice, Alia App già la stiamo utilizzando in maniera importante, per le segnalazioni.